Ecco la seconda giornata del Memorial Massimo Scalinci. Oggi è sabato. La bandiera per ultimo. Fallo piazzare, due in ginocchio. Giuseppe? Ok, stringetevi, due in ginocchio e due... Esatto. E voi alzatevi. Benvenuto a Tifonzo dalla Quattro Colli. Ecco. Quelli davanti più bassi. Eh, sì. Signore e signori, lino di Mame. Guardati l'alto. Guardati l'alto. Guardati l'alto. Eccolo, lino di Mame. Guardati l'alto. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.